Buonasera e ben ritrovati con Diritto di replica. Una puntata un po' particolare perché non ci saranno ospiti in studio, come invece è accaduto praticamente sempre in questi mesi. Siamo invece usciti con le nostre telecamere per cercare di raccontare meglio una vicenda che sta facendo molto discutere in città. Faccio riferimento alla Movida che soprattutto negli ultimi fine settimana si è trasformata in una Movida violenta, tra schiamazzi sempre più insopportabili non solo per gli abitanti della zona del Ghetto ma anche per gli stessi commercianti. Siamo arrivati anche delle risse tra i giovani e poi sono arrivati anche i controlli da parte delle forze dell'ordine che soprattutto negli ultimi due weekend sembrano aver riportato un po' la situazione nella normalità. Il problema comunque c'è, resta, si sposta anno dopo anno seguendo anche le mode, soprattutto l'estate sul lungomare Tonde Revelle, poi fino a qualche tempo fa in via Montegrappa, adesso questa nuova tappa al Ghetto. Qualcuno che abbiamo provato ad avvicinare, qualche residente del Ghetto preferisce non parlare per timore di subire delle ritorsioni, insomma di vedersi magari danneggiata l'auto che parcheggia sotto casa. Comunque c'è chi ha anche inviato alcune fotografie per dimostrare quella che è poi la situazione che si vive soprattutto nei fine settimana. Auto che vengono trasformate in cassonetti come vediamo in questa immagine, bottiglie abbandonate per terra che poi i locali cercano un po' di pulire ma vengono poi disseminate soprattutto dai ragazzi lungo tutte le strade del Ghetto. E poi andando avanti con le foto arriviamo anche ai danni che vengono provocati in questi fine settimana con panchine di velte, fioriere e semi distrutte. Quindi arrivano poi anche gli interventi necessari per cercare di ripristinare un po' di decoro tra l'altro in una zona così centrale e quindi anche così frequentata di Civitavecchia. Penso però che sia importante fare un passo indietro per raccontare meglio questa movida e anche per cercare di capirla perché negli ultimi giorni c'è stato anche un incontro tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine per discutere proprio di questa situazione. Un incontro nato anche e soprattutto in seguito all'allarme lanciato da chi vive al Ghetto e anche da chi lavora al Ghetto. Un allarme che avevamo registrato, raccolto nelle settimane scorse con una serie di interviste andate in onda nel TRC e giornale. Allora rivediamolo insieme, riascoltiamo i racconti di chi vive il Ghetto e poi partiamo con il nostro racconto. Le interviste. Ci troviamo in questo momento appunto nella zona del Ghetto. Questa è l'area della così tanto contestata movida. Ecco, quindi siamo in casa di una signora che purtroppo deve subire abbondantemente quello che accade il venerdì, il sabato sera qua sotto. Però naturalmente che qua stai in centro per il mio lavoro va benissimo perché io, ripeto, lavoro al porto del Civitavecchia, ho degli orari particolari per lavoro. Quindi venerdì e sabato non si dorme perché qui sotto c'è tutta la movida del Ghetto che è fino alle 3 del mattino. E poi non solo è il rumore della musica, delle persone, di tutto, ma anche di quello che fanno i ragazzi durante le ore fino a tardi. Buttano le bottiglie di birra per terra. Quindi non so neanche se c'è un'ordinanza che non si possa più servire il vetro dopo mezzanotte. E questo non viene rispettato assolutamente. Quello che so è che non c'è neanche un controllo su quello che si fa qui al Ghetto perché, ripeto, sabato scorso c'è stata una lite tra ragazzi qua sotto. E quindi c'è il rischio anche che succeda una tragedia perché con tutte queste bottiglie per terra. Un centro storico che ha una legge molto rigida, che non si possa mettere di fuori un'antenna per prendere internet, però i graffiti si possono fare, come quelle scale storiche che ci stanno giù in fondo, che sono proprio l'abbandono. Lì si mettono a fumare mariguana perché quando si passa da quelle parti si sente. Qualcuno vi ripaga questi danni? Assolutamente no. Poi tra l'altro quelli erano i nostri insegni. E così tutti fine settimana? Beh sì, è una costante, sì. Ma anche durante le serate estive, infrasettimanali, anche periodi di festa qualsiasi, insomma, non è una questione di fine settimana. È un caos, non si dorme. Io che mi alzavo alle 5.20 al mattino per prendere il trenno era una roba allucinante. perché non è solo il sabato e la domenica, incominciano il giovedì, quando poi si mettono a prendere i cornetti alle 4 del mattino, litigano il volume delle macchine a palla, sentono la radio. È una roba allucinante. Poi questa è tutta zona di persone anziane, oltretutto. E niente, siamo avanti così, abbiamo fatto esposti su esposti, ma non siamo arrivati a niente. No, niente, che sembrano tutti quanti, fanno un macello, poi non mi ha potuto niente perché? C'è da cazzotti se esci, io dito dentro, fanno quello che fanno e basta. La fanno un macello da una madonna, buttano bottiglie per terra, hanno buttato giù un capitello da su di De Marmo, che poi come hanno fatto, sono due belle pesanti, stanno massendo le botte, è un macello. Insomma, esco di fuori, mi piace il cazzotto io. Penso che siano maggiori anni, c'è stato pure qualche miniori anni. Allora, il problema di fondo che a Civitecchia purtroppo non c'è più niente da fare, non ci sono attività, cose che uno può fare. Quindi il sabato sera che fa? Prende e si ubriaca tutte le sere, tutte le sere, da venerdì, sabato e domenica. È una logica. Il discorso è che purtroppo ci sono dei problemi, che la gente non esce più, non c'è più una lira per andare a Roma, per fare altre cose. E ovviamente rimane qui. La gente si lamenta, non ci sono baby gang che fanno casini. Ci siamo tutti, ci sono chiesi qui. C'è qualcuno che ogni tanto va fuori di testa e non si regola. Per adesso magari ci vorrebbe qualche controllo che passa più spesso. Il finestro è sotto la movida. È veramente insostenibile. Fino alle 4, 4 e mezza di mattina, musica a palla, rumore, c'è di tutto. L'altra sera vibravano le pentole che ho in cucina. Non riuscendo a dormire, metto i tappi alle orecchie e prendo le gocce per dormire. Mi aspetto che le leggi siano applicate. Questa la denuncia, lo ripeto, di chi abita o anche di chi lavora al ghetto che ha portato poi l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine ad affrontare, ad approfondire la questione movita. Al vaglio dell'amministrazione comunale anche l'ipotesi di prendere misure drastiche. L'abbiamo chiesto al sindaco Antonio Cozzolino. Sentiamo cosa ci ha risposto e in particolare di cosa si tratta. Quale ordinanza potrebbe essere presa da Palazzo del Piggio? Vediamo. Sindaco, quello della movita è un problema ciclico. Si ripete da anni. L'estate zona Pirgo, poi qualche volta via Montegrappo, ultimamente al ghetto. C'è stata anche una riunione in prefettura. Possiamo dire che qualche risultato già si inizia a vedere da alcune fine settimane a questa parte? Sì, io direi che qualche risultato si vede, a prescindere dalla riunione voluta dal prefetto qui al comune, su Inaola Calamatta, con le forze dell'ordine. Io di questo ovviamente devo ringraziare sia il dottor Lucchesi che l'arma dei carabinieri, che comunque stanno facendo in queste ultime due settimane, hanno intensificato l'azione di presidio, soprattutto al ghetto, e continueranno. Noi dal canto nostro, come io avevo avuto occasione di dire in precedenza, una volta approvato il previsionale a metà o fine marzo, adesso vediamo, parte subito il posizionamento dei varchi elettronici per l'accesso nelle aree pedonali. Già quello, da un punto di vista di vivibilità proprio della zona, dovrebbe aiutare le stesse forze dell'ordine nell'azione di contrasto, a modi di vivere la vita serale, insomma, un po' esagerati. Per chi abita in quella zona, le sere diventano quasi un incubo. È possibile pensare magari a qualche ordinanza ancora più ristrettiva? Io devo essere sincero, ne stavamo discutendo, ne stavamo discutendo con i miei, ovviamente bisogna contemperare esigenze sia sacrosante, ovvie, di chi vuole vivere in santa pace i venerdì o i sabato sera, e con altri tipi di necessità. Però, ecco, sì, stavamo valutando, anche io personalmente, stavo anche valutando la possibilità di impedire la vendita di alcolici oltre l'una della mattina, come in teoria adesso è per la musica. In teoria adesso i locali del centro devono spegnere la musica a luna della mattina. Stavo valutando questo tipo di provvedimento, mi confronterò anche con le forze dell'ordine per avere un loro riscontro sulla cosa, e poi vediamo se adottarlo o meno. Un problema di ordine pubblico, ma anche un problema proprio sociale e culturale. In questo senso potrebbe aiutare, ad esempio, qualche iniziativa, magari nelle scuole, perché poi parliamo di giovani. Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ne parlavamo proprio adesso con il capitano della compagnia dei Carabinieri, proprio di fare azioni di sensibilizzazione, no? Su diversi temi. Lui mi proponeva di fare una giornata dedicata alle truffe agli anziani, perché anche se non, diciamo, come mi ha detto lui, per il dato statistico ci d'eccia non è problematica, però i casi ne abbiamo avuti. Quindi giornate di formazione, informazione, questa era una delle idee di cui discutevamo, però per carità, giustamente, anche nelle scuole, fare un po' di, come si diceva una volta, educazione civica non guasterebbe assolutamente. Stop alla vendita degli alcolici dopo l'una di notte. Questo è il provvedimento che sta studiando l'amministrazione comunale, lo ripetiamo per il momento, si tratta soltanto di un'ipotesi. In questi casi però c'è il rischio di generalizzare, soprattutto di creare magari allarmismi anche eccessivi. è quello che temono i commercianti, soprattutto chi ha un locale e quindi poi lavora con la Movida. C'è la paura che vengano accomunati tutti i ragazzi, quando in realtà molti poi trascorrono normalmente, serenamente, le loro serate, le loro nottate, nelle fine settimana. Allora, ascoltiamo come vivono la Movida, i commercianti, i titolari, i responsabili di alcuni pub della zona del leghetto e anche come reagiscono, come commentano a questa ipotesi che arriva da Palazzo dell'Epincio di sospendere, di vietare la vendita di alcolici dopo l'una di notte. Le interviste. Siamo con Anna Maria Cecaccia e Maurizio Mauro, responsabili di due locali qui al leghetto, una zona che ultimamente, soprattutto nelle ultime settimane, sta facendo parlare di sé in maniera negativa. questa Movida violenta, voi che ci vivete, che ci lavorate, che situazione vedete, insomma, la sera? Allora, buonasera, io dico soltanto sì, è vero, Movida sicuramente sì, il ghetto come tutti gli anni, anche quest'anno, insomma, noi lavoriamo direttamente, prettamente la sera e devo dire una cosa, però, non è vero che c'è tutta questa Movida violenta, è vero, la clientela, la tipologia un pochino è cambiata rispetto agli anni precedenti, quindi si è abbassata un po' la media, quindi più il ragazzo molto giovane rispetto agli anni precedenti, però è anche altro, cioè nel senso, per esempio, il mama, casa e bottega, la caffetteria, noi facciamo anche tante altre cose, al mama si può venire a mangiare una pizza, a vedere una partita, a casa e bottega, noi organizziamo eventi culturali, questa sera abbiamo una presentazione nel libro, in caffetteria si può prendere una cioccolata calda, cioè nel senso, è anche altro, questo voglio specificare, perché negli ultimi tempi, soprattutto i giornali, insomma, hanno comunque esagerato, credo, e quindi questo poi sta a discapito anche per chi ci lavora, no? Quindi c'è il rischio che questi episodi, che comunque si registrano, ci sono stati anche dei controlli da parte delle forze dell'ordine, mettono poi in cattiva luce chi invece cerca di lavorare normalmente qui al ghetto? Eh sì, appunto c'è da puntualizzare questo, noi sui controlli non siamo contrari, nel senso è giusto, fa parte del loro mestiere, ben vengano, anzi, siamo noi i primi che chiediamo magari una maggiore presenza delle forze dell'ordine, anche se io per primo, che comunque sono stati nelle forze dell'ordine, capisco la situazione di impiego, di personale, che comunque non c'è a livello di polizia di Stato, né di carabiniere, tantomeno i vigili che sappiamo che comunque negli orari notturni non possono lavorare per problemi economici a livello, insomma, di stipendi, sappiamo che manca la loro presenza, però un concetto fondamentale non è che facendo una depressione nei confronti dei locali si interrompe questa movita, perché la causa di una movita, se si vuole dire violenta, quando capita, non è causa colpa di un locale perché capita che un ragazzo è violento, è poco civile o quant'altro, perché comunque c'è da specificare una cosa, si è letto appunto sui giornali che girano bottiglie di vetro, si dà da bere ai minorenni e quant'altro, un residente che magari ha visto queste scene può anche analizzare meglio la cosa, io in primis ho constatato che tanti ragazzi arrivano già in zona chietto con delle bottiglie proprie, bottiglie di vetro acquistate magari pomeriggio al supermercato oppure magari da casa se le portano, passano la serata con quelle bevande, quindi lasciano il vetro nel quartiere, noi nel nostro cerchiamo di fare anche comunque la pulizia che non ci aspetterebbe ma è giusto che sia così e ci accorgiamo appunto da quello che ci sono materie prime che noi non vendiamo, quindi bottiglie di birra 66 che qua nel ghietto nessuno vende, non tratta, quindi da lì si scaturisce poi tutto un iter e noi insomma ci rimaniamo male quando leggiamo appunto che forse l'ordine cercano di reprimere questa movita andando ad attaccare i locali, mi sembra un po' insomma un mezzo poco utile questo perché non è facendo chiudere i locali che si risolverà il problema. Parlando con alcuni residenti della zona insomma ci hanno raccontato che poi quando succedono episodi particolari, magari una rissa, qualche discussione che degenera, qualcuno prova anche ad intervenire, voi provate magari a parlare con questi ragazzi quando vedete che magari insomma sono un po' troppo alle grotti, ecco diciamo così. No, assolutamente sì, insomma anche quello è il nostro compito. Tra l'altro noi non diamo neanche, voglio specificare, alcol ai minorenni, quindi questo è anche fondamentale, importante, come diceva Maurizio, vengono già con le bottiglie, noi ce ne accorgiamo perché sono a parte marche diverse da quelle che poi vendiamo noi qui al ghetto, assolutamente sì. Ma se diciamo che sono fuori controllo esageriamo oppure è veramente così la situazione? No, vabbè, non l'esasperiamo nel senso, magari usare qualche termine è anche giusto, però si parla di episodi. Diciamo che un episodio non può compromettere comunque né una stagione né comunque una zona che per fortuna, questo io lo posso dire perché ho costato sulla mia pelle, passare da avventore dei locali, comunque quando ero un po' più giovane d'età, ad oggi dove ho fatto comunque anni fa un investimento, ho creato una mia attività creando appunto una zona di incontro per questi ragazzi che fino a qualche anno fa non c'era, quindi adesso andare a trovare per forza l'episodio leggermente sopra i toni che purtroppo è capitato, ma questo capita sempre, lo vediamo all'estate comunque anche in altre zone di cività vecchia, allora dovremmo mettere un tabù, far chiudere tutti i locali e via, così si salva situazione, tutti a dormire alle otto di sera, copri il fuoco e questi atteggiamenti non avverranno sicuramente, questo sono d'accordo. Le forze dell'ordine ultimamente hanno aumentato i controlli e qualche risultato si è visto soprattutto negli ultimi fine settimana, al Comune invece si sta ragionando, ci ha riferito il Sindaco Cozzolino, sulla possibilità di introdurre un'ordinanza che vieti la vendita di bevande dopo l'una di notte, secondo voi sarebbe un provvedimento positivo? Qual è il vostro giudizio? Assolutamente no, provvedimento drastico, così poi alla fine già a parte vabbè, considerando anche il momento di tutto il commercio qui di cività vecchia, siamo in difficoltà rispetto agli anni precedenti, con questa nuova ordinanza del Sindaco Cozzolino forse lui magari ha deciso proprio completamente di farci chiudere, secondo me, quindi assolutamente no. Sì, anche io sono d'accordo, comunque sarebbe dell'assurdo, dello scandaloso, perché per fortuna noi lavoriamo in maniera molto massiccia nel weekend, se leviamo quell'arco d'orario che può andare dall'una alle due, perché oltre poi non si va, perché noi in primis, almeno i presenti, comunque sono rispettosi e liggi anche al rispetto per il vicinato, interrompiamo attività musicali e quant'altro, anche la vendita, oltre le due sono d'accordo, ma prima, cioè, interrompere all'una sarebbe dirci ok, chiudete, andate a cercarvi lavoro e magari io andrò a dormire per strada perché comunque ho un mutuo su questo locale e vediamo se insomma si può mettere la mano sulla coscienza e mandarci per strada a tutti quanti. State preparando la serata, si vedono allestiti fuori gli ombrelloni, i divanetti, magari una struttura esterna diversa aiuterebbe, se non altro, a contenere un po' i rumori, perché poi il problema è anche quello, quello che lamentano gli abitanti. Beh, sicuramente sì, magari rispetto all'ombrellone o alla sedia che noi abbiamo adesso, che siamo stati costretti insomma col problema di Edehorts, sicuramente una struttura diversa aiuterebbe un po' a contenere sicuramente i rumori. Però io poi sono del parere, noi abbiamo, l'anno scorso avevamo l'ordinanza che era le due, quest'anno l'abbiamo a Luna. Per quanto ci riguarda, noi a Luna terminiamo, anche la musica, anche all'interno del locale. E quindi, voglio dire, credo che sia anche una cosa insomma adeguata, giusta, no? Fino a Luna di notte. Quindi, poi, certo, con un Edehorts sicuramente diverso, sarebbe un po' diverso, un po' per tutti, anche a livello lavorativo, perché noi abbiamo perso tantissimo, tantissimo, quindi economicamente. Quindi, quello sì, però, insomma, qui c'è tutto da verificare, perché qui ancora siamo in condizioni, non sappiamo neanche, esatto, in alta marea. Si apre un altro problema lì. Lì è un problema, a un occhio dove poi, personalmente, mi sento toccato veramente in prima persona, perché mi sono battuto e sono andato anche in altre trasmissioni radio, dove chiedevano, appunto, una mia opinione, una mia opinione sul discorso De Or, che veramente siamo sul ridicolo, siamo sullo scandaloso, perché si è cercata, ancora prima della presa, chiamiamo, passatemi il termine, della presa al potere da parte del 5 Stelle, comunque, un suggerimento e una collaborazione con assessori e chi di dovere. E tutti, ah sì, ha belle cose, ha belle proposte, soltanto che poi, al dunque, vedevi che qua il lavoro è bloccato, nel senso, loro non si sono mossi in maniera intelligente e logica, perché hanno preso e hanno comunque fatto tabula rasa, hanno fatto smontare a tutti, non creando poi un'alternativa, non creando delle proposte e delle strutture che potrebbero dare, appunto, a tutti noi modo di riprendere a lavorare. In questa situazione che adesso va da due anni, dove ci siamo trovati a cambiare totalmente esterni e tenere soltanto delle serie di odore e ombrelloni, io personalmente ho dimezzato il fatturato, ho dovuto licenziare due persone, se questi non sono problemi che nuociono pochi anche a livello comunale, non lo so, quindi sicuramente per ricreare un progetto, qualcosa di costruttivo, anche a livello di odore, sarebbe un miglioramento anche per il problema dei rumori, perché se tu fai una struttura chiusa, ovviamente la gente si raduna all'interno della struttura, fuori il rumore sicuramente ne uscirà molto di meno. Un'ultima domanda, riassumendo possiamo dire che dai responsabili, qui da chi è il locale, arriva questo messaggio, c'è qualche episodio però evitiamo di generalizzare e di creare allarmismo, ve la sentite però di lanciare magari un messaggio oltre che al comune anche poi ai ragazzi che vivono la notte, soprattutto nel fine settimana qui al ghetto? Ma noi guarda, per quanto ci riguarda il messaggio poi lo lanciamo ogni venerdì e sabato i ragazzi che hanno un buonissimo rapporto con noi, perlomeno insomma i clienti poi del mamma sono quelli di casa e bottega perché poi ce li scambiamo, no? Quindi il messaggio è quello di stare più tranquilli, di bere meno, anzi noi glielo diciamo in continuazione quando vengono da noi, però ripeto, cioè nel senso perlomeno per quanto ci riguarda non vedo la cosa così esagerata, per quanto riguarda almeno questa parte, no? questa parte qui del ghetto non è così esagerata perché noi viviamo veramente poi noi a casa e bottega siamo prettamente quasi tutte donne quindi c'è anche una situazione di gestire chiaramente la situazione in maniera diversa rispetto a un uomo e quindi io non vedo così esagerata, la possiamo gestire la cosa quindi loro ogni volta che entrano noi siamo veramente ogni volta sia il venerdì che il sabato poi sono sempre gli stessi perché ognuno poi ha la sua clientela e quindi noi glielo diciamo di stare un attimino più tranquilli e di godersi proprio la serata senza fare chiaramente caos, no? Quello è assolutamente No, come appunto dice anche bene Anna Maria noi già nei weekend durante i weekend cerchiamo comunque di stimolare il cliente se lo vediamo un po' superiore a tranquillizzarsi quindi nel nostro piccolo cerchiamo di fare il possibile ovviamente noi non possiamo fare la balia a tutti i ragazzi se un ragazzo si allontana e va in un'altra parte di questo quartiere a creare dei disagi e dei problemi come si è letto anche sui giornali sotto i portoni di casa hanno visto scene o se diciamo così di certi non posso prendere ogni cliente e accompagnarlo per mano a casa quindi spero e invito a questo punto sì a moderarsi un po' tutti quanti però non esasperiamo questa situazione perché non è così drastica molto interessanti ed anche ricche di spunto le dichiarazioni rilasciate da questi due responsabili titolari dei tanti locali che sono presenti al ghetto si parla ad esempio anche dei dehors che passano i mesi ma aumenta anzi resta comunque la confusione tra l'altro siamo a metà febbraio c'è anche il rischio almeno tra i commercianti inizia a circolare il rischio che la situazione attuale all'insegna dell'incertezza possa avere ripercussioni anche per la prossima stagione estiva ma al di là dei dehors torniamo sul tema di questa trasmissione la movida dai commercianti da chi ha il locale arriva una risposta netta all'ipotesi dell'amministrazione comunale di vietare la vendita di alcolici dopo l'una di notte perché l'avete sentito hanno risposto così praticamente ci fanno chiudere ma c'è anche un altro aspetto che rende preoccupante la situazione o quantomeno dovrebbe far riflettere chi anima le notti chi fa diventare violento o comunque fuori controllo la movida molti di loro non consumano nei locali nei pub l'avete sentito si portano da bere da casa magari fanno la spesa il pomeriggio e poi vanno nei posti negli angoli mari un po' più bui meno controllati del ghetto per divertirsi fino a quando poi la situazione non degenera anche per questo fermo restando che come hanno detto i due responsabili dei locali lì del ghetto non bisogna generalizzare non bisogna neanche esagerare infatti proprio in questa puntata abbiamo voluto ascoltare tutte le campane sentire tutti i vari protagonisti di questa vicenda sia chi lavora al ghetto sia chi ci abita dicevo però che comunque la situazione è delicata va affrontata deve invitare a farle riflettere e poi anche insomma potrebbe portare l'amministrazione comunale come ha detto il sindaco Cozzolino nell'intervista andata in onda pochi minuti fa magari ad avviare delle iniziative un commento in tal senso lo abbiamo chiesto al consigliere uno dei consiglieri comunali più giovani Matteo Manunta ha intervistato soprattutto in qualità di delegato alle politiche giovani tra l'altro interessante perché Manunta poi commenta anche l'ipotesi dell'ordinanza accennata dal sindaco Cozzolino di non vendere di vietare la vendita di alcolici dopo l'una di notte ascoltiamo Matteo Manunta consigliere comunale ma soprattutto delegato alle politiche giovani li dico soprattutto perché parliamo di movita parliamo di giovani come giudica questi episodi questi fine settimana molto agitati che si stanno registrando ultimamente nella zona del ghetto purtroppo il problema della movita va avanti da anni e ultimamente sta assumendo proporzioni sensazionali quindi io penso che veramente ci sia un problema culturale dietro oltre che quello del mancato rispetto delle regole perché le regole ci sono e andrebbero rispettate certo magari bisognerebbe fare un lavoro un po' più con i ragazzi e aiutarli comunque a cercare qual è la la retta via perché diciamolo tutti anche io sono giovane però non è che vado in giro a buttare le bottiglie per terra o a schiamazzare durante la notte quindi io penso che essenzialmente sia un problema culturale ma anche quello del mancato rispetto delle regole che veramente è la cosa base cosa può fare il comune ad esempio il sindaco ha parlato di un coinvolgimento delle forze dell'ordine anche per un'opera di sensibilizzazione intervenire invece nelle scuole può essere un'iniziativa fattibile ci state ragionando il problema essenziale è appunto quello del controllo perché c'è una mancanza di controllo le regole ci sono ma se non c'è nessuno che controlla sono regole che non valgono alla fine non valgono diciamolo così però secondo me prima di tutto c'è bisogno appunto di controllo poi delle iniziative con la scuola stiamo pensando anche di introdurre il divieto di somministrazione dopo l'una però secondo me il proibuzionismo non porta da nessuna parte prima cosa ci deve essere appunto un percorso con le scuole che deve far capire che la mancanza di senso di appartenenza che questa città ormai non ha da anni e lo vediamo veramente col problema della movida e poi soprattutto c'è bisogno di un intervento delle forze dell'ordine ma non solo per i ragazzi ma anche per il rispetto delle regole che alcune volte parte anche dai commercianti un ultimo commento lei da giovane come vede come giudica questa deriva che stanno prendendo insomma questi ragazzi sempre più atti vandalici queste notte che invece da essere un appuntamento per divertirsi si trasformano in un'occasione per delle bravate cosa sta succedendo da Civitavecchia ma io non credo che bisogna fare però tutto un erba un fascio purtroppo quelli che fanno un macello durante le notti sono una una stretta minoranza quindi molti ragazzi comunque invece sono rispettosi rispettano le regole e stanno al loro posto certo purtroppo mi dispiace che veramente da delegato alle politiche dei giovanieri si faccia passare sempre che i giovani sono così sono quelli che fanno macello quelli che non rispettano la città invece sappiamo bene che ci sono dei ragazzi che rispettano anzi ci sono anche associazioni che ci stanno aiutando a migliorare quella che è la città senza diciamo dirlo in pubblico dirlo pubblicamente quindi sì la deriva è brutta perché c'è una minoranza che sta andando verso quella direzione però ce ne sono anche molti giovani che sono rispettosi verso la città e veramente si tirano sulle maniche affinché faccia lo scatto lo scatto decisivo non generalizzare non esagerare tutto molto giusto l'ha detto anche Manunta come come giovane oltre che come consigliere comunale però anche attenzione a non magari sottovalutare ad un problema che c'è che c'è da diversi anni che l'abbiamo detto in apertura si sposta seguendo le mode ma anche le stagioni perché l'estate è al Pirgo poi passa in via Montegrappa adesso è arrivato al Ghetto e sicuramente continuerà a fare il giro di Civitavecchia il problema dicevo comunque c'è e ha portato addirittura anche a chi abitava nel Ghetto a lasciare la zona esasperato da questa movita da questi schiamazzi notturni è il caso di Giancarlo Taurchini che ascoltiamo in questa intervista Giancarlo Taurchini per oltre vent'anni abitante al Ghetto e poi però una fuga per quale ragione precipitosa perché praticamente il Ghetto si è trasformato si è trasformato in negativo perché all'inizio tutta la piazza era soltanto un parcheggio poi con i lavori per la ristrutturazione e per i lavori per la creazione dell'isola pedonale fu fatta la famosa rotonda quella rotonda quella piazzetta non tanto piazzetta perché la piazzetta non c'è perché c'è quella meridiana che occupa il 50% della piazza dopo di questo iniziarono i lavori per la ristrutturazione di tutte le palazzine perché erano state abbandonate dal 45 46 quando furono restaurate al bene e meglio per farle abitare e dopo di quello hanno iniziato i primi concerti i primi concerti che venivano fatti il pomeriggio addirittura la sera fino verso le 11 si stava abbastanza dopo si stava abbastanza bene durante il concerto però dentro casa non si poteva parlare perché la piazza è piccola quindi faceva la cassa di risonanza poi i commizi dei partiti le elezioni le feste per le elezioni e poi è iniziato le prime orchestine che facevano un po' di musica la sera per per le trattorie fino a lì però niente di male perché insomma la zona era tornata a vivere poi c'è stata anche l'introduzione dell'isola pedonale salutata positivamente all'inizio da voi cittadini residenti sì certo perché l'isola pedonale ha eliminato il traffico e quindi ha eliminato tutto quel parcheggio ma l'eodorante nello stesso tempo non poteva essere una piazzetta piccolina al centro della città parcheggio di una città poi cosa è successo perché cosa l'ha spinta a lasciare il ghetto poi l'apertura di alcuni alcuni bar e alcuni bar particolari perché nel pomeriggio erano molto calmi però la sera erano frequentati frequentatissimi da giovani anche da famiglie perché portavano io mi ricordo che un bambino lo sgridai perché per due ore batteva il pallone sulla serranda della trattoria con un rumore spaventoso perché la via era piccolina e quindi da lì è nata questa famosa movida chiamiamola movida ma non è non si riusciva più a dormire d'estate d'estate fino alle tre le quattro della mattina noi non riuscivamo a chiudere occhio perché o schiamazzi o liti grosse liti fra giovani bottiglie rotte macchine danneggiate io mi ricordo che una macchina che avevo comprato nuovissima avevano fatto un balletto sopra e tutta la carrozzeria era tutta schiacciata inutile poi immagino anche tentare di richiamare questi giovani perché poi si rischia anche sul personale no? sì sì qualche volta l'abbiamo richiamati per cercare di farli diventare fra virgolette un po' più civili e abbiamo ricevuto delle cioè delle parolacce addirittura qualcuno faceva degli atti vandalici sul portone rompevano i vetri il portone abbiamo cambiato il vetro del portone una ventina di volte lei è andato ad abitare al ghetto che anno era? era intorno agli anni 80 l'ha lasciato? l'ha lasciato nel 2011 quindi non la sorprende questo nuovo allarme che arriva dagli abitanti della zona del centro? no è giustificatissimo perché specialmente poi quando uno dentro casa ha un malato e quindi quel malato ha bisogno specialmente la notte di riposare senza problemi e ci sono nelle case di tutti c'è sempre un anziano o qualcuno che è lì veramente era invivibile secondo lei che cosa servirebbe? che cosa si potrebbe fare se si può fare qualcosa? dunque lì servirebbe di farla diventare vera isola pedonale obbligare tutti i parcheggi che erano stati assegnati va bene che c'è via Enrico Toti che erano assegnati ai residenti però mettere non tanto una sbarra quanto dei dissuatori che non possono permettere di entrare nelle macchine e poi fare come in Inghilterra dopo le 11 tutti a casa perché è impossibile che alle due di notte la gente possa schiamazzare senza che nessuno le dica niente perché vogliamo vivere tutti civilmente le urla e i danni perché poi i danni e poi tutto quello che era l'immondizia i vetri rotti le bottiglie perché non c'era se uno c'è un cassonetto o qualche cosa per buttare le bottiglie non è che le butta nel cassonetto ma le schiaccia per terra con grave danni e pericolo per le persone con questo racconto con questa testimonianza anche questa storia amara di un cittadino costretto a cambiare zona per evitare insomma di dover convivere con una situazione diventata ormai invivibile soprattutto per via di questi schiamazzi chiudiamo questa trasmissione senza fare poi la morale senza lanciare appelli o mandare inviti abbiamo voluto abbiamo cercato di fornire un quadro il più vario e completo possibile abbiamo ascoltato tutti chi vive al ghetto e anche chi viveva al ghetto e dal ghetto è dovuto andare via chi lavora al ghetto e poi le istituzioni il sindaco Antonio Colsolino e chi dal sindaco è stato incaricato di occuparsi dei gioni ovvero Matteo Manunta delegato alle politiche giovanili bene dunque termina qui questa trasmissione un po' particolare lo ripeto nessun ospite in studio ma una serie di interviste aperte da Francesca Biagiola interviste e servizi dedicati alla Movida grazie per averci seguito appuntamento a venerdì prossimo buonasera grazie a tutti